Enzo Di Biase, preparatore dei portieri della polisportiva bosconerese, è ricominciata una nuova stagione, rinnovato entusiasmo? Certo, bisogna sempre pensare di fare sempre meglio e quest'anno abbiamo dei portierini un po' più attivi degli altri anni e speriamo di portarne qualcuno avanti. Come hai trovato i portieri dopo la pausa estiva? Un po' appesantiti perché le ferie fanno sempre male quando si parla di calcio, in poche parole, si fa più fatica a riprendere il tutto. Senti, lavoro tanto come sempre però visto sia da parte tua e soprattutto da parte dei ragazzi tanta voglia e tanto entusiasmo? Sì, per fortuna hanno tanta voglia di fare e speriamo che continui nel proseguo della stagione in modo da avere sempre più risultati. Sono ormai anni che nelle squadre dove prepari poi i ragazzi vanno a fare salti importanti, vedi Torino e Juventus. Quest'anno hai già ad occhiato qualcuno che secondo te potrebbe fare bene? Sì, ce n'è uno qui a Bosconero e molto probabilmente uno ancora a Castellamonte che riusciremo a portarli avanti. Un ruolo, quello del portiere, lo vediamo sempre più difficile, sempre più complicato con regolamenti che troppo spesso li penalizzano. Sì, forse penso che continuino ancora a mettere dei regolamenti che penalizzano sempre di più il portiere. Dispiace un po' perché far fare dei gol che gli attaccanti non meritano è sbagliato. Enzo, un periodo è anche buono perché il tempo sta aiutando visto i terreni, visto questo clima asciutto. Sì, meno male che il tempo ci accompagna un po' e speriamo che continui ancora per un po' così in modo da poter fare una preparazione più adeguata. Lavoro comunque come sempre tanto ma non ti spaventa? Assolutamente, gli anni passano però ci diamo dentro lo stesso.